Seressa Capo, ad esempio, questo è un tema molto delicato, secondo lei dovrà essere introdotto un obbligo, cioè già è per i ragazzi, chi ha figli lo sa che per mandarli a scuola, non sul Covid, ma su tutto il resto c'è per fortuna un obbligo vaccinale. Ma per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, secondo lei, andrà introdotto un obbligo per il Covid, vaccino anti-Covid? Allora, se posso vorrei aggiungere un pezzettino a quanto detto dal professor Galimberti e volevo ricordare che io ho imparato, mio malgrado, che la procurata epidemia o la diffusione di epidemia è un reato punibile con l'ergastolo. Quando dice che l'ha imparato suo malgrado dice che sa di cosa parla. Sì, perché è rimasta con la volta in una storia. E quindi volevo, anzi a dire la verità c'è scritto è punibile con la pena di morte che però in Italia non c'è più e quindi c'è l'ergastolo. Ecco, questo soltanto per dire perché giustamente se si procura un'epidemia e si uccidono 5.000-10.000 persone è chiaro che questo è molto molto grave. Per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini, anche qui negli Stati Uniti è stato dato il via libera qualche giorno fa. inizieranno a partire da lunedì prossimo e le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali ma anche delle autorità sanitarie qui sono assolutamente di vaccinare. Perché? Perché vaccinando anche i bambini piccoli si interrompe o si rallenta la catena del contagio. Ma soprattutto mi viene da dire uno dei motivi per cui bisogna vaccinare è perché vaccinando si evitano anche infezioni batteriche secondarie. E queste infezioni batteriche secondarie oltre a essere pericolose prevedono l'utilizzo di antibiotici. E noi abbiamo una situazione legata all'antibiotico resistenza particolarmente in Italia, aggiungo, che è molto seria. E quindi vaccinare i bambini, vaccinare gli adulti significa... In che senso è molto seria in Italia la situazione di antibiotico resistenza? Significa che in Italia il numero di casi di malattia legata alle cosiddette infezioni ospedaliere, cioè da questi superbatteri che sono in grado di neutralizzare l'attività degli antibiotici, è una delle situazioni più gravi in Europa. E il Covid sicuramente non ha fatto bene a questa situazione. Si chiama la pandemia silenziosa. Cioè, ma questo vuol dire... Mi scusi professoressa, perché lei sta parlando con persone che non sono esperte di questa materia, quindi scusi anche l'ingenuità delle domande. Significa, lei sta parlando delle persone che si ammalano in ospedale, cioè che vanno per curarsi di un male e poi in ospedale prendono un'infezione. E l'antibiotico non basta più, ho capito bene. Per cui l'antibiotico non è più... Esatto. L'antibiotico, nessun antibiotico funziona più. Questo è un gran tema. E quindi è una specie di condanna a morte, no? Se noi riusciamo a ridurre... Non funziona perché la soglia si alza, non funziona perché la soglia si alza, è così. Il batterio resiste. No, l'antibiotico proprio non funziona, è come acqua fresca, non funziona. Quindi si muore di infezione. E questo perché come si è arrivati, scusi a questo, perché abbiamo preso in passato... Cioè, com'è che l'Italia è diventato il paese in cui molte persone sono antibiotico resistenti? Non sono le persone, sono, diciamo, le popolazioni di batteri che si trovano in alcuni ospedali, in alcuni, diciamo, ambienti. Questo non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia, riguarda tutta Europa ed è stato lanciato un allarme prima del Covid. In Italia vi è, e questo lo scrivo nel libro e la racconto, questo, diciamo, questo fenomeno che dobbiamo assolutamente arrestare, vi è un numero di ceppi che sono resistenti agli antibiotici molto più alto che in altri paesi. E quindi, se ognuno di noi non capisce che dobbiamo contribuire anche come individui a una sanità migliore, dobbiamo capire che ogni nostra azione di oggi ha delle ramificazioni su quello che avverrà domani. Quindi, vaccinare i bambini così come vaccinare gli adulti previene questo tipo di infezione e di conseguenza, non necessitando di antibiotici, si va a contribuire a migliorare una situazione, quella dell'antibiotico resistenza. Quindi, la salute è collegata, è come un sistema di vasi comunicati. è chiarissimo. No, no, molto chiaro il concetto. Volevamo fare un piccolo passo avanti.